Buongiorno a tutti bentornati e benvenuti a un nuovo vlogmas Oggi è 23, sono le 12 e 21, vi do il buongiorno adesso perché mi sono svegliata da poco Ieri sera per finire di montare tutto, fare la copertina, sistemare alcune cose, bla 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 Sono andato a dormire alle 4, cioè io vi ho dato la buonatta all'una, sono andato a dormire alle 4 Quindi immaginate la mole di lavoro Detto ciò tutto bene, mi sono appunto svegliata, ho un po' di borse sotto gli occhi ma ok Stamattina mi sono svegliata un po' con la luna storta, ve lo dico, quindi se oggi sembrerò più rompi del solito è per questo Infatti mi sono accorta che il tutorial che ho caricato ieri non ha raggiunto neanche 10.000 views E è un grosso peccato perché quel trucco mi piaceva da morire Non so perché è successa questa cosa, se è ancora il problema dell'algoritmo, se è perché era sabato, se è perché non vi è piaciuto, non lo so Fatto sto, se non l'avete visto per favore andate a darci un'occhiata, ve lo metterò sicuramente nelle schede info, lo trovate sul canale Fatemi questo regalino perché ci tengo, cioè forse è uno dei trucchi a cui tengo di più e mi dà un sacco fastidio Però presto tornerò con altri video, tutorial, get ready perché so che vi piacciono di più, quando faccio soltanto i trucchi è un casino Detto ciò, adesso faccio colazione, anche se farò una colazione molto così perché tra un po' praticamente si fa pranzo Quindi mangerò i miei soliti biscottini di galbusera Tra l'altro oggi volevo mettermi a fare qualche look da pubblicare su Instagram So che ve l'ho detto anche altre volte, poi non l'ho più fatto Oggi voglio farlo, prima di questo però devo sistemare l'inghia a mia madre per Natale E poi davvero posso fare tutto, quindi sono molto felice Ne ho salvati alcuni che mi piacciono, da cui prendere inspiration Vedremo perché me ne piacciono tanti 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 La posizione preferita di Wendy, è vero te la sei sudata oggi, mamma mia non voleva prenderti Qui stiamo finendo una mano, lei è convenzionale e le fa rosse, non come me ragazzi mi raccomando Distinguetevi, non fate le rosse Se è baby boomer su stunghia corta Stiamo guardando il break up e nel mentre stiamo Per un giorno mi sono fatta il couscous solo col broccolo e un po' di cavolfiore leggermente saltato Qui ho sempre una piaga con me, guarda come fissa Wendy non puoi mangiare pure il couscous? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì prenda questo colore arancio strano in realtà è molto più arancione dalla videocamera sembra più un senape però devo dire che sono abbastanza soddisfatta per ora ho fatto le mie gingerbread freckles e adesso sto cercando delle altre ispirazioni perché vorrei aggiungere qualcosina solo che non capisco cosa può starci bene, cosa no quindi guardare altre foto di gente che l'ha fatto più o meno simile mi fa rendere conto di cosa rende di più quindi mi metto all'opera, finisco tutto quanto anche il make up sotto ciglia finte, sopracciglia trucco finito mi piace un sacco, anche queste ciglia sono bellissime e sono le milan della glam lashes collection di primark cioè io scioccatissima per fortuna che ne ho prese due paia quando sono stata a londra, sono bellissime sulle labbra invece ho messo potter's clay di mulac con sopra questo di pupa che è un I'm glamour nel colore 11 e un po' di gloss di Fenty ma poi vedrete tutto nel post che pubblicherò su Instagram adesso accendo come sempre la ring light che è nascosta qua dietro e scatto una fotina o meglio ne scatterò una trentina e poi ne sceglierò una se tutto va bene tra l'altro piccolo trucchetto che utilizzo a volte nelle foto, non sempre ma a volte non attacco le ciglia finte perché è un peccato rovinarle solo per una foto ma le appoggio semplicemente e devo dire che in questo caso non si nota foto scattate, devo dire che sono venute meglio del previsto, è un trucco che viene meglio in foto che dai video sono davvero felicissima purtroppo adesso mi devo struccare e ne voglio fare un altro che invece pubblicherò proprio il giorno di Natale questo qui, questo trucco la foto di questo trucco mi sa che la troverete su Instagram proprio oggi quindi andate subito correte sul mio Instagram trovate tutti i link qua sotto vi faccio apparire il nome adesso non avete scuse quindi una vigilia col bot visto che voi lo vedrete domani che è la vigilia quindi mi vado a struccare poi faccio una merendina perché si sono fatte le 5 scattate adesso adesso io qua mi stavo ascoltando le canzoni di Escol Music con il mentre che mi truccavo e basta me lo faccio vedere l'ultima volta vedete le ciglia finte le ho tolte è come se non ci fossero mai state queste sono nuove perfette quindi è un trucchetto da non sottovalutare sono scesa a far merenda purtroppo come sempre mi scordo una macchinetta però mi sono mangiata quelli yogurt che avevo comprato qualche giorno fa buonissimi sono i miei preferiti perché penso che sia yogurt greco quindi è bello cremosino con il farro soffiato al miele raga è una cosa buonissima e adesso prima di iniziare l'altro make up mi metto un film così nel mentre che faccio guardo ascolto più che altro e è un bel po' di mesi che voglio vedermi anzi rivedermi probabilmente per la 53esima volta il mio film preferito di sempre che se mi conoscete saprete qual è dovrebbe spero in teoria uscire il continuo diciamo che è un po' al pari di Harry Potter però tra i due se la battono quindi adesso lo metto saranno seriamente due anni che non lo guardo quindi direi che è anche ora di dargli una rispolveratina adesso cerco di farlo partire sto provando su alta definizione vediamo un po' speriamo bene e i nostri eroi ce la fanno siamo approdati su Pandora prima che fosse un negozio di gioielli e adesso me lo godo nel mentre mi trucco le mie due cose prefe ragazzi sto facendo anche il secondo look in realtà è quasi finito sono abbastanza felice di come è uscito fuori anche se devo ancora finire insomma di fare alcuni dettagli però allora ho fatto vabbè il trucco di quest'occhio è così anche se non mi piace molto come è venuto perché ho utilizzato un blu dalla palette di Jamie Charles che non riesco a sfumare bene quindi è venuto un po' troppo netto secondo me però questa parte mi piace ho fatto anche qua il dettaglio del corpo diciamo così adesso mi faccio la foto e mi ristrucco un'altra volta il film invece è nel clou proprio dello svolgimento questo però c'è un casino ma dai neanche troppo speriamo che le foto vengano bene come è venuta bene quella che ho girato prima tra l'altro sono le 9 ci vuole un sacco per fare questo tipo di look però sono proprio entusiasta di come è venuto quello lì di prima l'ho modificato prima il post ho scritto tutte le cose che ho utilizzato è davvero ragazzi lo sto facendo sto scendendo così solo che devo stare attenta ho fatto l'idiota e non mi sono levata questa cosa c'è anche il cerchiettino ma non mi andava di struccarmi e avevo fame famina quindi adesso facciamo una reaction ogni tanto scendo truccata in modo particolare ciao a tutti 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 ma vedete chi sei? ma sei un pupazzo di neve ah vuoi di piante? sì un pupazzo di neve la carota ah quella è uvetto sodo cavolsiore finito di mangiare mi sto vedendo 90 giorni prima di sposarsi credo si chiama il programma però non riesco più a parlarvi così quindi adesso mi strucco e vi faccio vedere più o meno come faccio ma la batteria si sta scaricando quindi prima la cambio e poi iniziamo allora tolgo il cerchietto mi sto incolando tutti i capelli poi metto questa fascetta che me lo chiedete sempre dove l'ho presa ed è di Primark quando sono stata a Londra due anni fa mi tolgo la vestaglia che spero di non aver sporcato salviettina struccante e mi tolgo questo che tanto è un prodotto cremoso di NYX non l'ho fissata perché altrimenti lì erano problemi invece non avendola fissata vedete si pulisce in un secondo adesso diventerò fucsia e con la stessa salviettina pulisco anche la parte appunto qui del viso bye bye tre ore di lavoro perché come dico sempre io ci vogliono tre ore per farlo o un secondo per rimuoverlo ta ta poi dopo mi faccio una bella maschera perché dopo strucca e ritrucca strucca e ritrucca direi che è doveroso ok una volta che più o meno la buona mi sono rimossa il grosso utilizzo lo struccante salito di Clinique per rimuovere tutto praticamente è un prodotto così lo applicate e lo assaggiate sul viso e vi rimuove vedete tutti i residui di trucco ma tipo questo taglio calcio si cosa l'unica pecca è che appanna un po' alla vista però poi passa quindi me ne faccio una ragione alterno questo a quello di Mulac che si equivalgono abbastanza come io ho già spiegato la differenza è che questo col contro ha il fatto che appunto appanna alla vista mentre quello di Mulac ha come contro che all'interno ha tipo dei granellini e ogni volta mi finiscono negli occhi quindi mi da un enorme fastidio quindi adesso finisco di sciogliere il trucco vedete cioè in un attimo e poi sciacco tutto con una spugnetta vedete fa così e va via quando mi sono più o meno tolta l'eccesso con una spugnetta prendo il mio prodotto preferito di Allobody che è la Coco Fresh che è una mousse che io più che come struccante la utilizzo come detergente per togliere gli ultimi residui oppure anche quando non sono truccata al basso la sera per pulire comunque il viso adoro a partire dall'odore e adesso faccio una delle mie maschere preferite che è questa di Darfan che ha due parti una è la parte purificante e l'altra illuminante è una roba pazzesca infatti costa tipo sui 50 euro però posso dire li vale tutti e a volte faccio entrambe a volte faccio soltanto una parte quindi inizio con la parte purificante il bello è che io questa l'avevo presa su Octoly ma appena finisce la ricomperò sicuramente quindi rimango un attimo in posa con questa nel mentre poi torno di là e mi guardo il filmozzo mi sono incappucciata perché sto morendo di freddo nel mentre stavo guardando RuPaul Hallstar hanno messo la quarta stagione praticamente in tempo reale con l'America e sono molto felice di questo è soltanto sottotitolata io vabbè sono abituata a guardarle sottotitolate a volte anche soltanto con l'audio originale quindi per fortuna riesco a capire la maggior parte delle cose poi ogni tanto dicono qualcosa nello slang dicono qualche battuta strana e non le capisco però dettagli vabbè l'importante è capire il succo come dico sempre io trova la parola chiave nella frase e capisci tutto quanto ma mi stavo quasi per scordare il calendario e visto che mancano poche 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 caselle direi che it's time to open it ne mancano soltanto due quindi apriamo quello di oggi del 23 oh poi non so voi ma io più vado avanti più mi aspetto cose belle quindi questo è un altro ombrettino praticamente è un grigio antracite glitteroso e si chiama twisted molto carino quindi ci rimane solo domani di aprire l'ultima e poi volevo parlarvi di una cosina perché ho letto qualche commento sotto il vlog di oggi non ho avuto tempo di leggerli tutti ma ce n'era uno che mi ha colpito in particolare e mi ha portato a riflettere non mi ricordo se era una ragazza o un ragazzo ma penso una ragazza che mi ha detto che nel vlog di ieri ero un po' esagerata nel mostrarmi ossessionata dal mio corpo ho detto le gambe troppo muscolose adesso ho mangiato domani devo andare in palestra e ha detto appunto che do un cattivo esempio per le ragazze più giovani che mi seguono io è una cosa a cui sto molto attenta do so sempre quello che dico comunque di dare il buon esempio in qualche modo infatti non sapete in questi vlog ma squante cose ho detto magari poi nel montaggio mi sono risentita e non suonavano bene cioè sembravano cose che in realtà non volevo dire quindi le ho tolte quindi cercherò di essere incisiva è un commento che mi ha fatto riflettere perché potrebbe sembrare effettivamente così però io non vi ho mai nascosto il mio passato quello che sono stata vedermi adesso con il corpo che mi ritrovo dopo tanti sacrifici tante battaglie eccetera eccetera non mi è facile perché un conto come ero prima mi dicevo ok sei così punto bassa ma adesso che sono migliorata tra virgolette io mi voglio migliorare sempre di più quindi quello che dico è rivolto soltanto verso di me non è che è una cosa che devono fare tutti in generale poi io sono molto autocritica purtroppo riconosco che a volte è un grosso limite quindi appunto cerco sempre di migliorare 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 mi sto impegnando per raggiungere questo obiettivo non è una perfezione magari condivisibile da tutti perché questa ragazza mi ha detto anch'io le gambe muscolose ma mi piaccio così e va bene cioè nel senso ognuno è bene che si piaccia come come vuole a me non piacciono e questo è ho pensato a questo discorso per qualche ora spero di averlo formulato nel migliore dei modi quindi in sostanza io vi parlo sempre dell'alimentazione sono fissata e bla 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 proprio perché non voglio tornare a come ero prima ma non perché ci sia qualcosa di male ma perché io non mi piacevo non mi sentivo bene qualcun altro sì può sentirsi a suo agio può star bene anche così io non ci riuscivo ma ancora ad oggi io non mi sento nel pieno della mia forma fisica mentale quello che posso dare eccetera eccetera quindi è per quello che vi parlo sempre di palestra e mangio sano e cerco di fare questo e quell'altro è giusto che sappiate che bisogna accettarsi così com'è però ci sono delle situazioni in cui è anche bene sapere che per cambiare qualcosa che non ci piace bisogna mettersi in moto perché le cose non arrivano con lo schiocco delle dita ma bisogna lavorarci su detto ciò anche oggi la pappardella è stata detta spero abbiate capito per favore ditemi di sì qua sotto nei commenti perché io non voglio influenzare nessuno a meno che non l'influenzi in modo positivo raga sto guardando la puntata di RuPaul la prima ma Valentina cos'è ragazzi ma è bellissima guardate no io è scioccatissima ha un trucco che è assurdo io sto guardando tutto scioccatissima in questa stagione le mie preferite sono Valentina Naomi Small io l'ho sempre adorata e Manila e anche oggi si va a dormire tardi sono le due qualcosa io direi che ora che vi è la buonanotte perché domani sarà una lunghissima giornata faremo un sacco di cose preparatevi non perdetevi gli ultimi giveaway sia su Instagram sia qui nei blog perché vi ho detto che soprattutto in quello del 25 ci sarà un super giveaway non vedo l'ora perché ho messo dei premi molto carini in palio detto ciò io vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani pronti carichi ciao ciao